Santa Cruzullarno ha come punto di forza l'eccellenza. Noi abbiamo avuto una grande crescita negli ultimi 5 anni. Da un fatturato di 10 milioni oggi siamo arrivati a 75 milioni di euro. Il mio consiglio da imprenditore è quello di investire sempre, perché il futuro è un'opportunità e non qualcosa di cui aver paura.